Salve a tutti ragazzi da vostro Mazingazzetto e benvenuti su questa nuova puntata di Gli Speciali dello Zetto Allora, siamo su Pocket Quest, questo gioco mi è stato consigliato da un sito dove potete trovare giochi gratis, giochi indie gratis sviluppati da persone, italiane in questo caso tra l'altro E Pocket Quest in particolare è stato sviluppato da Loriano Gori e ci ha messo 7 anni di produzione per arrivare a questo risultato Il gioco è praticamente un mix tra un gioco da tavolo stile gioco dell'oca e un RPG, quindi è uno stile che mi piace da morire, un stile talisman per capirci Quindi è un gioco veramente figo, so che non avete mai visto il talisman sul mio canale ma magari un giorno lo faccio Come potete notare la nostra eroina principale è questa donna molto popputa e abbiamo una... ho aperto uno scrigno, scusate Abbiamo anche questa coccinella, ho dei problemi mentali scusate, questa lumaca Ho già giocato un po', il gioco è molto carino, ci sono delle citazioni che io spero di riuscire a far vedere in questa puntata perché sono straordinarie Se no ve le vado a raccontare alla grandissima Mi scuso ancora con lo staff di Frank Expo perché ci ho messo una vita per fare questo video ma come voi sapete mi si è spaccato il microfono Volevo cercare di farlo in modo più bello, in modo da avere comunque un microfono decente, volevo farlo fatto meglio Ma è una vita che aspettano, cioè è tipo per un mese che gli ho detto no lo faccio domani e invece è un mese che non lo faccio Quindi mi scuso davvero tantissimo, vi lascio qui sotto il link, comunque è www.freankexpo.net e trovate tutti questi giochi Vi lascio qua sotto il link del sito e il link proprio per scaricare Pocket Quest, il gioco è gratis quindi non è da dire piratiamo roba strana Tranquilloni Allora, cominciamo Ciao bella Allora L'intro è abbastanza veloce quindi ce la vediamo C'era una volta un regno lontano lontano Era un regno come tanti, una notte però accade un evento che getta tutti nella più cupa disperazione Dei pixel neri che entrano nel castello Anche a me sta cosa col libro che pagina è bellissima Qualcuno si introdusse nel palazzo reale e senza che nessuno potesse impedirlo E rapì le principesse Vediamo Vabbè ha rapito qualcuno sicuro Rapì il principe Ah è vero, è vero, mi ero dimenticato, rapì il principe Oh mio dio Subito dopo fu dato l'allarme ma ormai era troppo tardi Sì, ha detto quando una succube cerca di rapire qualcuno lo fa volando Ed è un casino ritracciarla, ma un pochino Il giorno seguente furono affissi editti per tutto il regno alla ricerca di valorosi E proprio in un villaggio vicino comincia la nostra storia Con l'arrivo di una giovane guerriera di nome Nono No, 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 no Eccola Tu sei pulciosa, bellissima lei Cerca se valorose rova per una missione di sabbataggio e ricompensa inimmaginabile per informazioni del regazzo a Palazzo Reale Bene Ecco, fare il bagno nell'oro C'è già presto paferone Tant'altro le hanno grattato tipo grana loro Perché ci sono lingotti intorno e le ha delle scagliette addosso Pio! No, che coi è che siete Oh, ma quanto sei zumbere con quella faccina Nono E come in ogni gioco che si rispetti Dobbiamo avere la spalla a rompicazzo In questo caso c'è Eccola lì Ciao Com'è? Quelle belve famiglie che se ne sono andate? Eh sì Grazie Grazie infinite, salvatrice mia Quelle pesti volevano fare di me il loro pranzo Meno male che sei arrivata tu Altrimenti Permettimi di presentarmi Mi chiamo Uzumaki Scusate Ma tutti mi chiamano Uzu Ok, meno male Meno male che si chiamano Uzu Perché sennò devo fare battute su Naruto ogni due secondi I can't believe it Uzu Sono una bella gigacchiocciola E da poco ho deciso di fare un viaggio Per maturare e vedere il mondo oltre casa mia Solo che non avevo ben presenti I rischi e sono bastati quattro pulcini a mettermi in difficoltà Bella figurare in mer Lo aggiungo io Scusa ti avrò annoiata Dimmi di te A chi ti vuole mia giovane vita? Sto cambiando voce tipo ogni due secondi Mi rendo conto Yeah Ho capito Ho un altro personaggio tipo Link che non parla Però tutti lo capiscono Ho capito Così ti chiami Nono E sei una guerriera in cerca di avventura Un classico direi E kawaii Perché no? Anche di Fama e denaro Scritto così Vabbè Mi viene in mente D'Angelo San Dregos Ma sono dettagli Quindi hai letto l'annuncio Hai pensato che potesse essere una buona occasione Ma non è la minima di dove sia la stella del re Chiederlo tipo No Cribile come mi ha capito tutto dal tuo cenno Ah ok Quindi non parla È lei che fa gesti Noi gigacchiocciole siamo proprio intelligenti Quasi telepatiche Eh sì Oh è Edy è apparso per un attimo Non c'è neanche bisogno di chiederlo Il minimo che posso fare è accompagnarti Che culo Viaggiare per viaggiare almeno non sono sola Ottimo Uzu Sono proprio felice di ciò Certo che sei di poche parole Abbastanza Non ti preoccupare Tanto parlo abbastanza per tutte e due Che botta di culo Un po' come il cappellino di Minish Cup Uguale Spacca cazzo uguale Viene da questa parte E andiamo Eccoci qua Aspetta Frenda l'entusiasmo No no Scommetto che non sai niente di come funzionano le cose qua fuori Vero? Io sì Lei un po' meno Esatto Non ti preoccupare Ho giusto preparato un paio di appunti Per questa eventualità Roba da poco Leggi bene Sì roba da poco Guardate eh Boom Sono 40 pagine di tutorial Allora Praticamente Possiamo scegliere l'argomento Quindi Il tabellone 64 caselle Blablabla Si tira un dado Semplice Poi possiamo continuare a scegliere l'argomento Tipo statistica La 6 C'è la vitalità E poi Vitalità C'è l'attacco C'è la difesa C'è l'agilità Poi ci sono i vari oggetti Ci sono delle trappole Come vedete Le regole Più o meno Le so già tutte Comunque tutorial Possiamo ritirarlo fuori Ogni volta che vogliamo Sì ovviamente Le spade sono più veloce Sono equilibrate Lasciano lente Lasciano veloce Gli scudi Accessori Abilità Ah possiamo fare Valkyrie Cavaliere Ninia 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 Ok perfetto Diventeremo Ninia Le abilità Che io non l'ho mai trovate Tra l'altro Punti fatica Punti fatica Sono I pf Punti ferita Non so perché li chiami fatica Ah no Punti vita Scusate Punti fatica Sono quelli per la magia Che io non l'ho mai trovate Stima di combattimento Si combatte Vabbè Ma questo lo vedrete Tranquillamente Quando combattiamo Passiamo di livello Si ok Perfetto Ogni dpcbx guadagna un livello Si esatto Dovremo farlo abbastanza Non dico equilibratissimo Ma il pg non potrà essere Troppo squilibrato Perché Se avremo un'abilità A A uno Non potremo portarne un'altra Fino a Oltre sei Perché Come ci sono qui Tra l'abilità massima e la minima Non possiamo cipare 5 più di differenza Comunque Direi che per adesso Tutorial Non vi serve troppo Vi spiego io piano piano Cosa succede Parliamo un po' di te Bene Adesso abbiamo i vantaggi Possiamo fare nessun vantaggio Mastica Veterale in erba Abbiamo 3 punti extra da spendere Nella verità Ricca sfondata Schifosamente ricca Partiamo con 1000 moneta d'ortica Salute de ferro Ogni punto vita e spesa ma caratteristica Ti da 4 pv Invece che 3 Che non è male Crescita rapida Ogni combattimento Monti x extra Non è malaccio Fortuna sfacciata I mosti lasciano sempre L'oggetto che trasportano Tra il 50% Di moneta in più L'umatricionata Usumaki Usu non sono mai riuscito Oh Dattia Scusami Non sono mai riuscito A svilupparla Giro della battaglia Si praticamente ricettiva In battaglia Per questo impegno La vita di combattimento Vedi invece da qui in fretta No Io mi prenderei Fortuna sfacciata Che vogliamo fare Un rogue Ultima cosa Come sono distribuite Esatto Le mie statistiche Come sono distribuite Allora Io direi Direi che la finestra Mi ha spalancato la porta E Vogliamo fare un rogue Quindi abbiamo deciso Metterei Ai pv Tanto a 9 Perché sennò siamo morti L'agilità A 4 E la forza Si perché sennò Non riusciamo a colpire Una bega Ok Adesso abbiamo più possibilità Di attaccare Abbiamo un meno 2 All'attacco Abbiamo ancora un punto Possiamo mettere Si Va bene così Sono veloce Ho un po' d'attacco Un po' di vita Fate largo a nono e a Uzu Perfetto Oh yeah Si sopra scrivo Perfetto Allora Esatto Volendo posso andare nel menu E riguardare il tutorial Da qualche parte Se non sbaglio Abbiamo una spada di legno Uno scudo E un amuleto Che Ci dà più 2 monete Come già ti avevamo dato 6 facce Una mela E un panino farcito Una fune di fuga È andato truccato Praticamente farà sempre 6 Questo dado Penso che faccia sempre 6 Ok Lanciamo il dado Possiamo guardare avanti Per capire Più o meno Quanto sperare di fare Diciamo che è meglio Che non facciamo 3 o 5 Facciamola così Perché sennò Cadiamo in una trappola L'unica cosa Che non mi piace molto Di questo gioco Ecco Così subito Vediamo combattimento Dicevo L'unica cosa che mi piace molto È che Le Attacco fulminio Quindi attacco prima io Se non sbaglio Dovrei fare tipo un attacco subito Ok parto Vedete Si attacca Quando la barra di attacco Mia Arriva alla barra Alla barrina rossa Avendo fatto un attacco fulminio La mia partiva già Praticamente dalla fondo Quindi attacchiamo E l'agilità in teoria Dovrebbe avere aumentato La velocità della mia barretta Io tolto 0 Bene 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 direi Proprio ottimo Ahia Mancato Si anche qui Purtroppo Diciamo un'altra cosa Non troppo bella Che ho notato E che i nemici Ti fanno sempre un pulito Per conto Parata perfetta Si Cioè Qua potete dire Eh no Ma perché hai pochi punti In attacco In difesa L'altro personaggio Che avevo fatto Aveva tipo 0 In agilità Aveva solo attacco E non colpiva comunque Ahia Mancato Ottimo Eh mi sa che Tra un po' Ci dovrà scappare Eh Ai Ahia Oh no Oh Alleluia Realmente ha tolto 1 Ahia 0 Bene Perché penso che lui pari Sempre almeno 1 Esatto Vedete Non abbiamo parato In questo caso Ahia Vedete Le animazioni Sono un po' Lente Soprattutto nel tirare i dadi Un po' Vedete Vedete che è la lunga Oh finalmente Diventerà un po' Lento Tipo Vedete Tirare i dadi E non poter velocizzare Il tiro del dado Perché ci metterà un'ora A volte tirare Uh Abbiamo trovato un portafortuna 3px E un botto di monete Ah ah Menu Quindi possiamo andare a cambiare Già il portafortuna No Abbiamo trovato Portafortuna Talismano Che Ah cioè Semplicemente qui Non devo Non devo equipaggiarlo Quindi Non me lo fai equipaggiare E un portafortuna Ok Va bene Tira il dado Non fare 2 5 Magari 5 fa schifo 2 3 4 5 No soldi Ottimo Ding Ah 9 Uh Sei sprecata C'è lo shop No c'è la taverna Ok Vai 4 Taverna 1 2 3 4 Le caselle con le stelline speciali Anche se facciamo più del tiro Tecnicamente ci passiamo Cioè Ti dice Ti vuoi fermare qui? Ok C'è una tipa che sembra una specie di vacca Un guerriero E un Redneck Ottimo Con chi vorresti parlare? Allora Con la mucca Con la guerriera Con il redneck Guerriera E tu che saresti ragazzina? Credi fossi di essere in spiaggia? Ah Sei una guerriera Si vede dall'armatura in effetti Già Il suo nome No No Beh Tanto piacere Pure io sono una Guerriera Mi chiamo Ariel Potrebbero essere citazioni Che non capisco Probabilmente Non sono di queste parti Comunque Anzi Devo ancora capire Come sono finita qui Che sia colpa di Olga? Ariel? Olga? Olga non era il nome Della cattiva di Ariel? Magari ho detto una stronzata Eh Ok Fa magia casaccio Ottimo Yeee Grazie Facessi due Sarebbe una figata Ok Speriamo di fare due Vai Tung Ovviamente L'hanno fatto due Uno Due Tre Quattro Uh Alle terme Che dovrebbe riprisionarci la vita Poff Winner Eccoci qua Che carini Saluti Dalle terme No No Grazie Quella cartolina Ci riprisi nel pv Esatto Più tre pv Ma siamo quasi al massimo Vai Tre Quindi nemico Uno Due Tre E quindi Ci spaccherà la faccia Attacco fluminio di nuovo Amica abbiamo miglia di agilità Almeno questo All blob Che ha un pv È lento In culo E ha un pv Potremmo ucciderlo subito Sarebbe figo No Ho parato Vedete È lentissimo In confronto a noi Quindi potremmo Attaccare tre Quattro Tre o quattro volte Prima che Tocca a lui Sì Sarebbe anche bello Fargli dei danni Ogni tanto Eh Ahia Oh Finalmente Un pf avevi Un pf d'ho toto Eh Progetto mi lascia amico Una mela Che bello Una bella mela Uuu Imprevista Ecco questa qua È palesemente la succube Che c'era prima Fermi Non crediate di potervi Miscare Le voci sono sempre uguali Impunemente in cose Che non vi riguardano Lili vi ostacolerà Con ogni Che carina che sei Ma che Non ti avvicinare Sai Sta volando Quindi anche volendo Niente Li vuole bene Stai ascoltando o no Eh va bene Calma Hai preso Lili Per un animo carino Sì Di base Ah no Lili è bella Sexy Seducente Kawaii Credele Ma non è un animaletto No no ma si vede Nel senso sei piccola Con le alluce È una Succube Si dice succube È femminile Vabbè Va bene Ma chi è questa Lili Di cui parli Si in effetti Parli di terza persona Figuriamoci a voi Lì è una missione Di ostacolare Chiunque si avvicina Al palazzo Quindi Preparatevi Magica roulette Del caos È lì Lili che ti invoca Eccola lì Allora Questa cosa Esatto Darà una Una sfiga casuale Io Penso Che Che è successo Sta cosa Che tirava la roulette Penso una ventina di volte Nell'altra partita Su 20 volte 18 volte Mi è capitato Quello in basso Ad esempio Quello lì sotto Vediamo cosa succede Questo non l'ho mai visto Ad esempio Vi piace essere all'oscuro Di ciò che potrebbe accadervi Mi cadete E' un peccato Perché ora non vedete Oltre il vostro naso Ma vabbè Tanto Ne è che mi freghi così tanto Per tre turni Ok Olè Tiro al dado Due ce l'ho sciotto Se non sbaglio No Sono soldi Shopper a tre Non lo so Se mi posso Fer 24 Non ho già tante monete Non ho idea Se mi posso fermare Spero di sì Due comunque Shop Puoi fermarti Sì Ok Vedete Lo shop La taverna Dove possiamo salvare Tutte queste cose qui Mi dicono Quando posso fermarmi Mi costo vendere qualcosa Porta fortuna Che non costa una bega Posso possederne più di uno Di porta fortuna Quindi probabilmente Con uno Non serve Serve molto a poco Una mela Un panino Un antidoto Fune di fruga Telecristallo No Dado truccato Eh Costa Un pestasso Oh Posso comprarmi un'arma nuova In effetti Questo mi diminuisce Ancora il danno Ma aumenta l'agilità La spada Cavaliere Ah questa fa Uno come danno Fisso Esattamente come La mia Spada di legno Però la mia Spada di legno Sì ma è imprecisa La lancia è imprecisa Cacchio Sì posso fare attacchi Più veloci Ma non colpisco mai più Dilema Mi toccherà Prendere la spada Cavaliere Per forza Sì venisse No sono pregato Oh Che carine Tutti questi oggettini Stupidi Vabbè sì Mi tocca la spada La lancia d'argento Fa veramente troppo schifo Cioè Fa un meno uno Al colpire E uno dei danni base Esattamente come la spada di legno Sì da un più un'agilità Ma sti cazzi Vediamo questa Prezzo Ok No 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 Vuoi equipaggiare subito Sì Ok Sì esatto Ok Perfetto Posso vendere la spada di legno Tanto non mi serve più No Dovrei avere c'era qua Esatto Vendi Ah ok Devo fare Prezzo Devo fare prezzo Per quante quantità Che ho Mi dimentico il dettaglio Ok Con la spada da cavaliere Spero di poter fare qualcosa Di più utile Mi auguro Aia Ancora due Se la succede Nemico Ok Ho meno una colpire Adesso almeno Sì però mica Ancora zero danni Palla Aia Sembra che ho quasi Come una mia sculaccia Aia Cioè io ho aumentato I danni E il colpire Continuo a fare zero Aia Oh E che cazzo Finalmente Sì io ho meno Tra la parata Non paro una bega Aia 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 Ciò succede Ciò succede Quando lascio Skype acceso Speriamo Passi in fretta Ok Eh perché È un casino Perché sendo un gioco Molto vecchio La finestra È in un angolino In alto Quindi tutte le icone Sono più grosse Trappola Per la prima volta Tra l'altro La trappola Fa semplicemente questo Ah l'ammuleto Giusto Mi può salvare Da una trappola Che culo Ouch Quindi era un gioco Consumabile Uno Due Tre Cazzo Quasi dal genio Altri soldi Grazie Per tre monete Che non è male Dovrebbe apparire di nuovo Esatto Lily Ciao Guaia E guarda la punizione Ogni tot di round Arriva Lily Tranquilli E vi ho magico Roletta del caos Bla 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 Forza Tira Andiamo a cosa succede Non level up Ti prego Ecco Questo è quello Che è successo Quelle novecentomila volte Buona passeggiata Grazie Tira Non fare uno due Brava Adesso magari c'è una trappola C'è una trappola Ci sono trappole ovunque adesso Ok Ci togli un pietra La trappola Allora Trappole più avanti Cosa c'è Minchia Eh Fare quattro Non mi dispiacerebbe Non mi vedo di cosa sia Facendo quattro Trappola Ma la tre pf Bene Oh Un regalo Che carino Boom Ecco Peccato Nono Tre pf Ottimo Fai due adesso Maledetto Cinque Ole Quello è il boss Che non possiamo affrontare Perché mi sembra che dobbiamo essere Il livello 5 O livello 10 Per affrontare No forse al 5 E quindi non lo siamo Quindi mi chiederà di fermarmi dal boss E gli dico Di no Perché è una minchiata No Tanto non posso affrontarlo Mi avrebbe detto non lo puoi affrontare E mi evitava di prendere i soldi Quindi 18 monete Quasi quasi Cosa che potrei morire Diciamo che uso un oggetto Prendiamo una mela Sì Basta una mela Una grande Mangiala Buonissima lei Ok Ferruttino Brava nono Andiamo Pink Vedete che ci mette Un po' sopporto a tirare A fare I saltelli È molto lenta nono Quindi Alla lunga diventa Un pochino Noiosegno Un pochino 20 monete Ottimo E arriva Lily Vediamo cosa succede Cioè Quello fai solo uno I monstri diventano Gesù Ah Di nuovo non vedo dove vado Eh vabbè Ricordo che a 2 o 3 Ci sono i monstri Vai Appunto Meno mai che mi sono curato Mostro Ahia Uh barata perfetta Grande Iaia Due Ottimo Ottimo Dai dai nono Dai nono Che si uccide Si fa level after All'altro adesso Aia Grandissima E muore Ahi Cotto pistola Ottimo Un panino Quindi Grello 2 Grazie 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 Troppo Troppo Buon Troppo Gentil Come se Avesse Accettato Grazie Gentilissimo Mua Mua Ok Posso mettere Due punti Girito 5 Vita 12 Si So che colpi Continueremo a colpire poco Ma la vita ci serve Tira Olè Uno Due Tre Che è E quello Oh Dovrei farlo più femminile ma non sono capace Ti interessa? No no guarda Una palestra Dov'è? Tra l'altro Se ti fai allenare puoi diventare più forte Nein Qui non ti diventa più forte Nel complesso Rimani come sei Ja Ma per aumentare alcune caratteristiche a spese di altre Oh cazzo Rimodellerò il sacco di cartofen che sei in qualcos'altro Se la tua crescita non ti è soddisfatta Verstaden Eh Credo di sì Quindi no no Se vuoi distribuire le tue caratteristiche questo è il posto giusto Ja ja Ecco compila la scheda che cominciamo Quindi posso togliere punti Per metterli Ah Ecco vedete Io non posso adesso mettere Più punti qui Perché tra max stat e min stat non può esserci Ma no Cioè io sono soddisfatto così Non mi serve una beca Sì 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 A me non interessa Le ho appena fatte Non hai bisogno di nulla dunque Gut In caso contrario io sai dove trovarmi Au vivesen Ciao cara Non l'avevo mai vista lei ad esempio Tira di nuovo Bind Cinque A uno E due E tre E qua E ci Soldi Perché qui in questa zona Ricordo che c'era una delle citazioni più fighe della storia Esattamente Era due caselle indietro Merda Cazzo Quella era una cosa che volevo farvi vedere Sei Uh uno Due Tre Quattro Cinque Sei Ah appena arriviamo alla taverna possiamo salvare In modo che se moriamo Risuscitiamoli Se no dovremmo Dovemmo ricominciare da capo Fino adesso Era merda Oh attacco comunque prima Vabbè 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 alla taverna ci possiamo riposare Vai nono Ci riusciamo ad attaccare due volte noi Ficata Un altro danno solo Credo Adesso riusciamo di nuovo Sì riusciamo di nuovo noi Ahia Grande Agilità in effetti è forte Ok Andiamo avanti Ancora un turno e arriva lì Ah ha fatto anche due preciso tra l'altro Taverna E almeno salvare il gioco sicuramente No dormire no sto abbastanza bene Salva No ho salvato Sì livello 2 Puvi 11 Sì ok No per recuperare un pf Non devo dormire E arriva lì 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 Vediamo che casino mi combini questa volta Tanto non credo Può essere una cosa buona Che possa fare Sì 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 Roberto del caos Giro la ruota Ok Oh Merda Fai sempre uno Ok Quindi mostro Quanti round? Tre Quindi prenderò un mostro Prenderò sicuramente I soldi e la trappola Ouch Tanto sei simpatica Lili Ah vabbè Ma affrontare un mostro non mi dispiace Faccio XP Prendo un sacco di soldi Un sacco di oggetti A me va bene Vai Haiya E zero Vediamo se ho anche contro Mi sa che questi passano più veloci No Comunque prima io Haiya Due punti Oh Boom Porco giù Da colpo critico Colpo critico Tra l'altro mi rallenta Eh sì Di brutto Ah potevo usare il super attacco Della magia definitiva Ma me lo tengo per un nemico più forte Perché Un po' non spreco usarlo contro di lui Perché si ribita la barra sotto i bv Ok Ancora due pixel Si si rivella di nuovo Bene 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 Quindi Di nuovo uno Cioè ad esempio qui Cioè so che fa uno Quindi vorremmo andare più veloci Ma non si può Oh altri soldini 9 Wow E rifacciamo uno di nuovo Però lo porta fortuna Quindi ti attacchi Giusto? Esatto Ah ah Ok Due turni E torna Lily Ouch Uno E vabbè E stavolta mi si è attrappolato Io Fucco giù da Sì ma Cioè con calma ragazzi Un cartone così No no tranquillo Non sei morto Ok un turno arriva Non fare tre Please Oh un altro regalo Quello di prima è andato così bene Chissà dov'è Bella Uzu che si rintana Ouch Una botta in faccia Te la sei presa Ciao Lily Magica roletta del caos Vai Tira Non level up Non level up In questo non so cosa sia Inferno? Oh cazzo Quindi Vedete questi prossimi passi Avrete modo di sperimentare La calosa accoglienza Che si usa dare a casa di Lily Quindi cos'è un danno Ogni passo Eh sì Un po' un'inculata eh Dinamo la taverna Ok scusate Mi ho dovuto tagliare Allora Sì siamo dinamo la taverna In chi vorresti parlare Con la tipa mucca? No dai con il redneck Ehi ciao bellezza Mio nome è Mark E lavoro nei regoliosi campi qua fuori Se non altro Uno che arriva subito al sodo Però i campi sono là fuori Anzi anche no perché io Sa qui bighellonare Certo Ben giro per i suoi campi Ci sono quei cavolo Dei mostri verdi L'ha incontrato qualcuno? Ah le slime Sì? Come no? Che le campestri Si chiamavano Allora no li ho trovati Le devono divorare i raccolti E rendere la vita in inferno Ai poveri agricoltori come me Oh Oggi sono particolarmente attive Non è bello trovarsi faccia a faccia Con uno di quei cosi Sono pure velenosi Ottimo Molto interessante Grazie per la segnalazione Noi ora però sarà me ne cambiamo Bene Ciao Quanti turni? Ancora due Mi tocca usare un'altra mela Vorrei una mela Grazie Ancora quattro Più guarda perché se combattiamo Sono morti Ciao Diciamola così Tira Auc Uno Devi fare due Che c'era la slot Tre danni ho preso adesso Cazzo Quattro Dimmi che non è un nemico Le terme Ho preso due danni Ma me ne ripristino un po' Almeno quello Ok Quindi di nuovo le terme Bene Che c'è Grazie.